Una matata ragazzi e ragazze, ben ritrovati dal vostro ciccio camera 89 Siamo tornati qua in un nuovo video reaction che vi piace tanto Perché dopo Dario Moccia che l'avete visto sul secondo canale, l'ha fatto anche Grax Oggi tocca a Foyce Gli ho mandato i nostri vanini, i nostri burger E vediamo un attimo come l'ha cucinato e se gli sono piaciuti Subito un bel pollice in su, vi voglio ricordare una cosa Questo è una esclusiva vostra, non lo sa nessuno Dal 29 novembre i burger di ciccio camera 89 saranno disponibili su Deliveroo A Napoli, Roma, Bologna e Milano Il prezzo del panino sarà di 11,90€ Poi ci sono le bibite, le patatine, potete prendere quello che vi pare E voglio farvi un regalo Allora, dato che siete così gentili con me e mi avete supportato tantissimo con le box Per un mese i burger di ciccio camera 89 saranno scontati del 20% su Deliveroo In più, se mi seguite sulla pagina il burger di ciccio camera 89 e sugli altri social Vi darò anche dei buoni sconto da utilizzare sui miei panini Di 5 euro a botta e poi anche la 10 Vabbè regà, insomma, ci siamo Ho bisogno di fare una intro né niente perché probabilmente l'avete detto dal titolo Il contenuto di questo pacco è stato mandato da uno di un youtuber che per me è tipo un dio Stiamo parlando di un video che ha creato youtube Madonna, ma tutti questi complimenti io non sono mai abituato Ragazzi, mi fate sentire male Ho un po' alzato l'audio Grazie Un bacio e grazie di avermi mandato una delle poche box Prego So che ci devi avere la mia opinione e avrai sia la mia che quella di un altro food blogger Ah, ok Tra l'altro voi dovete sapere una cosa di me Io ho mandato i panini a alcuni influencer, a quelli che potevo A nessuno gli ho detto di farmi piacere che i panini fossero buoni Questa è una cosa a cui ci ho ottenuto tantissimo Allora, qui dentro ci sono i nuovi hamburger di ciccio camera Oh, eccole qua Uno youtuber che fa una cosa in genere Per me c'è È tanta roba È tanta roba, soprattutto il progetto che c'è dietro Un po' style di Mr. Biscar Bravissimo Bravissimo Abbiamo i sacchi gelo Io non so niente di quello che c'è dentro ragazzi Perché non volevo spoiler No, effettivamente è meglio fare così Bello, bello Così faremo anche un bel casino Ma guarda che bello È bellissima dai È bellissima dai Però Esatto Un hamburger quindi Esatto Due hamburger Il cavolo cappuccio Ah, tra l'altro chat vi voglio dire una cosa Scusatemi chat Ragazzi che scriverete sicuramente qui sotto nei commenti qualcosa A voi che state vedendo il video Questa è un'altra cosa Che il 17 gennaio Verranno droppate Forse, lo spero Mille box Con i nuovi hamburger di Cicciochema 89 Come queste box qua Invece che farne 200 ne faremo mille Ma Ci sarà una novità Ci sarà anche l'hamburger L'amatriciano E per chi conosce il canale Lo sa di quello che stiamo parlando Un burger Bello ciccioso Ma questo è due o uno È uno Ah, quindi uno è solo col food pork E uno solo col hamburger È tanta roba Bravo Bravo Ah, questo è già tutto? È tutto no, però Bravo Abbiamo poi il pulled pork Sì Poi abbiamo la salsa crispy Sì Sì Cetrioli Buonissima Buonissima Esatto Allora Raga, quanto sono fumentato Che le persone stanno facendo Vedendo i miei panini Era una cosa, raga Sono troppo contento Ti rendi conto che Cicciochema Fa video da quasi Quanti anni hai tu? Io ricordo Da undici anni C'è io te lo giuro Io me lo ricordo benissimo Capito? E poi abbiamo Il paguro nella box Ecco Aspetta, molte istruzioni Noi qui abbiamo ricevuto Questa cosa va specificata Sì Sono randomici panini che arrivano Sono tre hamburger No, no Allora, non sono randomici La randomicità è stata fatta Per gli influencer A livello randomico Gli sarebbero stati mandati Gli hamburger Per chi li compra Potete decidere voi Che hamburger Andare ad acquistare Ovviamente Bravo Il ciccio pullhead E il carbonaro Bravo A noi dicono Che siamo tra i pochi youtuber Che c'è arrivato il pullhead E questo è vero È vero Ma non c'è arrivato il carbonaro Peccato Perché era il secondo più buono Secondo me Esatto Bravissimo Raga, hanno studiato Posso dire che hanno studiato Questa scatola è bella Raga È bella Tra l'altro Raga Ma pure sta roba Raga È fantastica Dai È bellissimo Che gli altri youtuber Gli ha mandato I tiramisù Il dolce Nooo Questo è grave Ma non è vero Ma io mo ti disso Fois Cioè adesso è arrivato Il momento di dissarti Io non è che non ti ho mandato I dolci E che ti ho mandato Anche un panettone In regalo Cioè oltre Non i tiramisù Ma le cheesecake Uno al pistacchio E uno al limone Ti dovrebbe essere arrivato Anche un panettone Al pistacchio artigianale Perché ve l'ho voluto regalare Che Fois mi ha distrutto Mi ha distrutto ragazzi Mi ha veramente spappolato Cioè proprio una cosa Non me lo sarei mai aspettato Da Fois Mai Noi abbiamo scelto Ciccio Crispy MacBacon Ok che è molto buono Facciamo così Tu c'è il Ciccio Crispy Io il Ciccio Full Ok A te il Ciccio Crispy MacBacon Vai Hai quattro passaggi Ok Ma io il problema è che non so Come funzionano questi qui Questi porne Ma non ti devi preoccupare Stai tranquillo Ecco perfetto Continui ai food vlog Che si parla Si giudica Si critica tanto Adesso bisogna cucinare Oh bravo Mai cucinato in tutta mia vita il bacon Ma dai Che ci vuole Sincero Dov'è l'acqua ragazzi Mi serve l'acqua Sentite rispondo al dissing di Fois E distruggo Francesco 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 Ma tu sei un po' pazzo Ma tu vuoi fare food vlogger E poi non sai neanche cucinare un po' di bacon Bro devi stare nella street A cucinare il bacon Francesco Francesco Pazzo Stai attento Che il pacuro Vabbè scusate Una merda però Voglio velo crispy Lo faccio Vede pure io Le mie nudità E qui te lo fai come ti pare E qui te lo fai Stai mettendo il miele Stai caramellizzando E comunque Francesco Sì Finalmente qualcuno Che è capace di cucinare Cioè dopo Grax Dario Moccia Che vi giro su Dio Non so come è sopravvissuto Al cucinare i burger Regà poi l'ho mandato anche a Xuter Cioè io non vedo ora di quel momento Regà Seriamente Seriamente Non vedo Non vedo l'ora Riaccendiamo la fiamma No ma guarda che la carne È tanta roba Bello grasso La carne è tanta roba Vai butti La carne è tanta roba Cinque minuti Cinque minuti Cinque minuti giusto Cinque cinque Il microonde ci sta Io avrei messo un forno Ma probabilmente non hanno il forno In questi momenti morti Stai super rilassato E Non devi togliere Girare Impazzisci Vabbè ma non è che stai cucinando In una cucina professionale Ci ha messo veramente Un anno A scegliere Le qualità Quindi Allora calcolate che da questo progetto E non sto scherzando Ci sto lavorando almeno da 7-8 mesi Con tantissime altre persone Io ho assaggiato personalmente Tutti gli ingredienti Di tutti i panini Perché ci ho ottenuto tantissimo Io ho fatto cambiare la carne Io ho fatto cambiare il pane Regà Un lavoro incredibile dietro Ma sono ben contento Perché mi state dando un supporto Incredibile Ora lo capiremo E cos'altro devi mettere dentro A fine cottura C'è darci Dai è troppo bella sta roba Dai Comunque loro sono bravi a cucina Si vede C'è foice che C'è foice che spingne C'è foice che spingne Allora è una cosa deve essere morbido E deve essere un po' durino Voglio essere responsabile Di tutte le mie azioni Bravo Bravo Però questa azione che lei ha fatto con l'acqua Lei deve fare un minimo evaporare Sì Perché se no quando poi può girare il panino Potrebbe essere un problema Allora Io scalderei la salsa cedda No Ma non è una salsa cedda Ma comunque Salsa crispy Ma no Ci sta No no Ci sta Ci sta Mi piace Sì 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 Beh ma Mamma mia Raga Mamma mia Come l'hanno fatto bello Ma lo sapete che me vi è voglia di mangiarli Santo Dio mi viene voglia di mangiarli Raga come fate a dire che non sono belli Ragazzi un ciccio burger Bravo Bravo chef Dai è troppo bello Raga Fa niente La carne è buona Se mangia pure mezza cruda Dai ci sta Ci sta Ci sta Buon appetuto Buon appetuto a Titti Buon appetuto a Titti Il primo che lo dice bene Il primo colpo Ciccini Vai vai Fammi vedere Fammi vedere Sono troppo curioso Raga Il bacon è molto bene Il bacon sì La carne è che potete Vabbè ma lascia perdere Allora a me non dispiace Forse sì Guarda come si lo mangia Guarda guarda Il bacon è croccante E ho capito il miele Si sente un pochino La nota di miele Quando lo mangi E il pane è buono Ma lo sapete che c'è A me mi fa troppo ride E mi fa quasi commuovere Sta cosa Che Foist ha detto Ho capito il miele Il dire ho capito il miele Cioè è tanta Tanta roba per me Anche perché L'idea del miele Io non l'ho presa Da un altro video Cioè questi sono panini Che ho cucinato io Nel corso degli anni Su youtube E la cosa di caramellare Il miele Era stravoluta Quindi mi fa No piacere Di più quello che sta dicendo Di più Esatto è molto soffice Anche dopo la cottura E soprattutto regge tutto il panino Quando si fa questa tipologia di panino Sotto americano E il pane è il segreto È vero Sono d'accordo Sono d'accordo Dove è troppo duro Deve essere una via di mezzo Questo secondo me Ci sta Tranne la tua cottura Ma poverino Ma poi si blasta tutti Il complesso Per come sto pensato La sequenza di ingredienti Cioè di sapori Di consistenze Un'ottocchio Se lo prende Ok Il pullet porca Tocca a me Un po' di ansia Facilissimo da preparare Subito scaldare Guarda che bei pezzetti di carne Guarda 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 è bella ciccia Guarda Non lo so se lo fa lui Sì dai Guarda che bella ciccia Raga Fantastico Fantastico Ma sono molto curioso Di sapere Com'è il pullet Perché si è vantato È buono È buono Allora lo facciamo Sciogliere un pochino Bravo Lo mettiamo qui E lo mettiamo con la salsa barbecue Sì Anche se io Invece nella ciotola L'avrei cotto qui col barbecue Non puoi fare anche là volendo Non succede niente Ci mettiamo subito Guarda che bevecetti Raga Abbondante Sonsa barbecue Perché mi piace Ah guarda come si avvalga Va bene adesso Raga Io c'ho la voglia Sto bene Con la nusole Dimmi se non sa di spec L'ho detto che stavo Un po' di spec L'ho detto L'ho detto pure io Eh infatti Quello È un po' particolare Però è molto buono Spaccava di brutto Ok Però è molto buono Sai che sei lo youtuber Più richiesto sul mio canale È vero Oggi l'ho portato intanto E lo sto convincendo A fare un viaggio Ora Non diciamo niente a nessuno Sì non dicevo Che è successo Che è successo No raga È una fame Io pure C'ho una fame assurda Raga Raga vi giuro Mi viene una voglia Di questi panini Sarà la curcuma Credo Bravo 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 Mi viene C'ho una voglia Raga incredibile Talmente poco giusto Per fare Colorante Panini c'è Verde, giallo E rosso Dopodiché poi siamo Ponte nel zandare Scelti sempre da me Ovviamente Per rendere tutto Un po' più divertente Io sto improvvisando Perché non ho il sale qua Non ti preoccupare Non c'è bisogno Tutto un po' improvvisato Allora partiamo Mamma mia Che goduria Facciamo il cavolo On the base Ah Che belle riprese Bravo 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 Ragazzo A me piace Mamma mia Raga Perché io C'ho il sapore in bocca Di questo pullet pork Capito Come è Tavoletta Bacon Sì Perché io C'ho il sapore Di questo panino Raga Alla io per fare una grande cheat È un panino Live Live È corrotto Assolutamente Anni di foot porno Per fare questo Mamma mia Io non è crudo Mamma mia Vai Bye Ciao Ciao Mi piace Secondo me A livello di bontà Sono buoni Entrambe Perché non c'è una acidità Che comunque Ti dava quella spenta È vero Anche essendo semplice Ma questo Cavolo Pullet E salsa Ma è incredibile 8 e mezzo Pure 9 9 e mezzo La salsa barbecue La salsettina qua lì Con i cetrioli Buono raga Per essere un pullet Dato così In una busta C'è fatto Spedito Cavolo è tosta Allora io non so Se lui ha intenzione Di mettergli i delivery Se vuole Eh già Oppure direttamente In panina Eh già Cioè secondo me Avrebbe sento sia Costruirselo da soli A casa Esatto Esatto E arriverà E arriverà 29 novembre Mi piace Mi piace l'idea Roma Bologna Milano Napoli Questa cosa ancora di più Perché lo ammetto Con sana invidia Dico che è proprio Una cosa giusta Ci voleva Per noi youtuber Del suo carico Grazie Grazie Ci voleva Bravissimo Apprezzo Ho fatto il mio meglio Apprezzo Un botto Quindi fa piacere Quando un collega Ti fa questi complimenti Io spero che l'amore Per questa roba Si veda Quindi vi ho detto Rimanete Sintonizzati Su tutti i miei Canali social Gruppo Whatsapp Instagram Le live E il profilo I burger Di Cicciocchia per 89 Perché vi daremo Tutte le informazioni Del caso Vi daremo Dei codici sconto Ad utilizzare su Deliveroo Per acquistare I burger Di Cicciocchia per 89 Escono il 29 novembre Io sono Troppo In hype E se riusciremo La sera del 29 Li ordineremo Insieme In live Io farò una live Dove andrò A ordinare I miei burger Spero di riuscire a farlo Vi voglio bene Spero che il video vi sia piaciuto Lasciate un bel pollicione in su E a chi dico io Tipo 2500 persone Se non Se non andate a lasciare Sotto a questo video Quando uscirà Hashtag Io c'ero Mi arrabbio Al prossimo appuntamento A posto di Ciccio per 89 Ciao ciao